Un incendio divampato questa mattina all'interno del laboratorio analisi del presidio ospedaliero Nicola Gianettasio di Rossano. Al momento sono ancora incerte le cause che hanno determinato il rogo e non si esclude che tutto possa essere ricondotto al surriscaldamento di un macchinario. Grazie al tempestivo intervento con un estintore di un tecnico di laboratorio si è evitato il peggio, ma i danni sono ingenti. A rischio le analisi e i campioni dei pazienti degli esterni nonché quelli provenienti dall'ospedale di Corigliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati tutta la mattinata per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, unitamente agli agenti della Polizia di Stato. Inagibili a causa del forte fumo che ha causato anche il rischio di intossicazione per pazienti e personale, pure alcuni locali del vicino pronto soccorso e della radiologia.